Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai, io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Siamo finalmente arrivati alla quinta stanza del metodo delle cinque stanze del dungeon. La quinta stanza è quella che normalmente viene messa per ultima perché contiene sia la ricompensa per gli sforzi degli avventurieri sia l'aggancio che il Master metterà alla prossima avventura del party. Questa settimana parliamo della stanza della ricompensa e della rivelazione. La quinta è la stanza che nel metodo del dungeon è quella che ha al meno probabilità di essere considerata proprio una stanza. Questo è il punto della quest in cui gli avventurieri ricevono la ricompensa per aver completato la quest e le informazioni che gli servono per proseguire con la prossima quest all'interno della campagna. Ai fini dello schema del metodo del dungeon cosa siano effettivamente questa ricompensa e queste informazioni dipende totalmente dai presupposti che avete messo in gioco quando avete cominciato a scrivere la quest. In linea generale si può dire che la ricompensa sia qualsiasi elemento del gioco che permette ai giocatori di superare più facilmente le prossime quest o li rende in grado di accedere a delle quest più difficili di quelle che hanno eseguito finora. La ricompensa può prendere forma di qualsiasi oggetto, pezzo di equipaggiamento o bene materiale che in qualche modo renda più performanti, più potenti personaggi. Ma potrebbe benissimo anche essere qualcosa di più aleatorio, la ricompensa potrebbe essere la gratitudine di una particolare popolazione, la possibilità di accedere a una specifica organizzazione, il fatto di avere un particolare png particolarmente influente in debito col party e quindi avere la possibilità di richiedergli qualche tipo di favore. I personaggi potrebbero ricevere dei titoli nobiliari, delle promozioni all'interno della loro struttura gerarchica. Le possibilità sono talmente innumerevoli che piuttosto settimana prossima facciamo un video dell'arte del masteraggio dedicato al tesoro, non ha senso mettersi a sploro qui da adesso. Per quanto riguarda il metodo di 5 stanze, diciamo che la ricompensa è quello che i personaggi volevano ottenere accettando di compiere l'impresa. Se fosse un bene materiale o anche solo la soddisfazione di aver ammazzato il loro nemico è indifferente. Ma per quanto la quinta stanza sia bella per i giocatori perché qui ricevono una ricompensa la sua funzione principale è quella di essere utile per il master. E infatti questo è il momento della quest in cui il master deve dare fondo a tutta la sua esperienza, tutta la sua ispirazione creativa per mettere in scena quello che deve essere il gran finale della quest. E' in questo momento che il master deve introdurre gli elementi che rendano memorabile il dungeon, che lo lasciano scolpito nella memoria dei giocatori, che servono per portare avanti la storia dei personaggi, la storia del mondo che state giocando e preparare il terreno per la prossima serie di imprese. E' questo a cui ci si rifelisce quando si parla di rivelazione. A differenza della stanza dell'ingano e dell'imprevisto, le informazioni che vengono fornite in questa stanza non devono portare a un aumento della tensione, ma a un rilascio della tensione. I giocatori devono essere soddisfatti di quello che hanno compiuto e il master, se bravo, deve anche cercare di renderli affamati di nuove informazioni in modo da rendersi più semplice, poi portare gli avventurieri lungo la prossima storia che mastererà. Una rivelazione ben fatta potrebbe portare gli avventurieri a proseguire lungo la linea narrativa del master e prendere le nuove missioni che gli devono essere date senza neanche che il master gliele presenti. Saranno loro stessi in loro iniziativa a mettersi in moto solo per vedere come va a finire la storia. Quali siano queste rivelazioni dipende attualmente da il vostro tipo di avventura e il sistema che state giocando? I giocatori potrebbero banalmente scoprire che l'intero complesso di dungeon sotterranee che hanno esplorato sia in realtà solo uno degli avamposti di un'antica civiltà ormai perduta e che in altre parti del mondo ci sono altre strutture come questa magari ancora piene di tesori e meravigliosi oggetti magici. I giocatori potrebbero scoprire che l'originale motivo per cui il loro pianeta era stato colonizzato è qualcosa di decisamente diverso da quello che è la storia ufficiale della loro colonia ha poi tramandato. La rivelazione comunque potrebbe essere un colpo di scena. Gli avventurieri potrebbero scoprire che quello che hanno sconfitto non era il loro reale nemico ma che il reale nemico è un altro o che magari l'intera missione che hanno appena finito non era altro che un diversivo perché l'antagonista doveva compiere qualche atto incredibilmente scelerato e ha mandato gli avventurieri a fare la loro missione per distrarli e poter compiere le sue nefandezze indisturbato. La rivelazione potrebbe riguardare anche i personaggi stessi. Magari uno dei membri del gruppo scopre che le sue origini o il suo passato in realtà sono diverse da come se ricorda o che magari c'è una relazione che lui non sospettava tra se stesso e la nemesi della campagna. Un master astuto potrebbe anche spargere nelle stanze precedenti degli indizi che preparino il terreno all'arrivo della rivelazione. Qualcosa che una volta che gli avventurieri sono posti davanti alla rivelazione gli faccia esclamare ah certo era ovvio che era così. Ah sì allora è questo che voleva dire quel PNG. Questo tipo di montare la rivelazione per gradi è fondamentalmente qualcosa di obbligatorio quando state masterando le queste investigative. La rivelazione forse contemporaneamente più dolce e amara di tutte è quella che la campagna è finita. Il mondo è stato salvato, la minaccia è stata sconfitta, si preannuncia l'epoca della pace e del bene, i personaggi hanno portato a termine le loro storie e hanno raggiunto il loro obiettivo dall'inizio del gioco. La quest termina, i personaggi torneranno a compiere la loro vita senza ulteriori imprese e i giocatori potranno ricordare le azioni dei loro personaggi ma dovranno cominciare a tirare fuori nuovi manuali, studiarsi nuovi regolamenti, preparare nuovi personaggi e prepararsi per l'inizio della prossima quest. Anche la quest della nostra squadra dell'inquisizione è finita, hanno sconfitto il culto e riparato il guasto salvando la vita e gli abitanti della città formicaio nell'ultimo video. Nel finale della quest torneranno dall'inquisitore il loro capo per fare rapporto sulla missione e si spera ricevere la loro ricompensa. Che siano soldi, equipaggiamenti o anche semplicemente l'encomio dell'inquisizione e uno scatto di carriera, una promozione di un nuovo grado, dipende dal master, dal tono della quest. Un vero seguace dell'inquisizione direbbe che la vera ricompensa è servire nel nome dell'imperatore, però questi tendono a vivere molto poco rispetto agli altri. Però una volta ricevuta la ricompensa ci sarà comunque la rivelazione. L'inquisitore gli dirà che mentre loro erano nel sottofornicaio, i sistemi di difesa del pianeta hanno rilevato delle astronavi in ruota d'avvicinamento e dalle letture che gli sono state presentate non sembrano affatto amichevoli. Molto probabilmente il culto che gli avventurieri hanno sconfitto non era altro che la testa di ponte per un piano di invasione planetaria su scala molto più vasta e la loro nuova missione sarà appunto contribuire alla difesa del pianeta dall'invasione dei cultisti, mutanti, eretici, alieni o quello che saranno. Decisamente una brutta sorpresa ma per chi conosce l'ambientazione di Warhammer 40.000 il lieto fine non è mai un'opzione. anche per quello che riguarda noi le cinque stanze sono finite ma non è ancora finita la serie dedicata alle cinque stanze. Tra due settimane faremo un discorso conclusivo vedremo anche come adattare il sistema. Per questo video invece come sempre è tutto. Mi piacerebbe sapere da voi se avete storie interessanti su finali di quest o ganci narrativi che il vostro master ha usato, che vi hanno lasciato particolarmente sorpresi. Come sempre se avete domande, dubbi o perplessità lasciate un commento nell'area di discussione qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.